ragazzi siamo al tabla terina c'è l'atleta fra chi ce l'ha a dirvi qualcosa meno male che siamo in prova speriamo in domani perché così è una trasparta persa ho pagato il caffè fortunatamente c'è quello gnomino ha fatto 22 25 e l'ha pagato lui grazie sì 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 c'è l'atleta milighetti ha fatto uno strevitoso 25 con calcio nuovo by giuele geppetto quindi atleta milighetti questo 25 che sapore aveva è buono nonostante tutto pagato il caffè è certo primo 25 ci sta ci sta ci sta ci sta ha dato a martinelli come 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 lo vedi il discorso la squadra si sta sta ripartendo dai oggi ma vediamo domani vediamo domani domani ragazzi montecatini la mattina fossa olimpica e il pomeriggio fossa universale che dio ce la mandi buona